C'è un ragazzo che incontra una ragazza in un locale e a un certo punto gli chiede «Ma scusa, sei single?» «No, sono self-partners». Dice «Che cazzo, Ordi?» Vuol dire che sono fidanzata con me stessa, perché se non ami prima te stessa non puoi amare un altro. Vabbè, allora quando te lasci fammo sapere.